o l'ermanito sono g a7 quello che tiene le tette racchette le lavagnette le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di qui c'è acquara schede ragazzi so che l'avete sentito tante volte però purtroppo tante volte l'avete sentito sul mio vecchio canale che non c'è più e quindi devo sento proprio la necessità di parlarne ragazzi perché sento la necessità di parlarne tra l'altro andate a vedere i miei video vecchi perché ragazzi I have to claim my territory per quanto riguarda qui c'è acquara schede perché ne devo parlare ne devo parlare ma ragazzi prima di farlo voglio invitare per scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio sto parlando di numero 10 ragazzi andate tutti quanti a scaricare il numero 10 dal link in descrizione numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuita non ve ne pentirete unitevi all'evoluzione unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione numero 10 detto ciò ragazzi dove parlare di qui c'è acquara schede perché perché adesso è facile perché parlare dopo è facile chiaramente ragazzi non è successo non è successo ancora niente solo una partita tra l'altro contro una squadra in grande difficoltà che è stata smantellata che ha un progetto tecnico nuovo eccetera 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 però qui si capisce dove la conoscenza calcistica secondo me di molti si ferma ed entra nella banalità nella banalizzazione delle cose eh no ma perché quello gioca contro questo eh no ma perché quello gioca contro quell'altro eh no ma perché quello gioca contro quell'altro lì partendo poi dal presupposto di fare i guru del calcio perché noi in Italia sappiamo tutto sul pallone quando in realtà non è assolutamente così cosa che succede anche con il campionato americano però andiamo per gradi noi ci ergiamo ergiamo si dice ci innalziamo ad un livello che che non ci compete per quanto riguarda il calcio italiano cioè quando molti dicono eh no ma quello viene dal campionato tot bisogna vedere in Italia bisogna vedere quello perché comunque quello 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 e quell'altro ragazzi il campionato italiano è il campionato in cui vengono tutti quanti ormai a svernare in cui i calciatori che hanno difficoltà negli altri campionati vengono perché magari sono più dominanti fisicamente viene l'esempio di Lukaku beh parliamo parliamo ragazzi di un campionato in cui gente magari di 35 36 anni passeggia passeggia e riesce a fare la differenza in maniera eccezionale a me questa è una cosa che mi dà particolarmente ma si dice vabbè ma quello ha giocato nel campionato giorgiano il campionato giorgiano lo voglio anche capire ma ragazzi nel campionato giorgiano ci ha giocato praticamente per tre mesi cioè tre mesi a giocare ha giocato nel campionato giorgiano lui non ha giocato tutta la sua vita nel campionato giorgiano anzi ha giocato nel campionato russo che è un campionato in cui ti menano nel campionato russo ti menano a parte che ci sono calciatori tecnicamente validi ci sono delle delle realtà comunque interessanti dal dal punto di vista calcistico ma lì ti menano cioè lì veramente ho il pallone o il caviglia e ma quello poi deve vedere che qua poi nel campionato italiano se se tu provi a fare una roba una cosa dicendo ti spezzano le caviglie ragazzi a parte che non non esiste più cioè non sono più tutti i chiellini e non ci sta neanche più chiellini per 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 rendereci per rendere l'idea di questo cioè quel quel tipo di calcio è cambiato e il livello del calcio italiano si è abbassato in maniera enorme in maniera enorme dello stesso discorso che poi fanno con gli americani cioè io ho fatto un tweet in cui ho fatto insigne si scoccia perché ho fatto un bel gol con il con il toronto eh si sta giocando in un campionato direttantistico campionato di serie C campionato di serie D è vero che tecnicamente non sanno al nostro livello ma parliamo di una nazione innanzitutto qualificata ai mondiali direte voi è ben astronzato però qualificata ai mondiali e noi no sono due dizioni di fila che non ci qualifichiamo ai mondiali e ci innalziamo al livello a livello top di calcio mondiale e per parlare del calcio americano dovreste effettivamente guardarvi le parti di interessarvi al calcio americano e quantomeno provare a studiarvi le infrastrutture studiarvi come 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 viene come si applica come si studia il calcio negli Stati Uniti sono d'accordo che i tattici migliori stanno in Italia su questo io sono perfettamente d'accordo e penso che la maggior parte del mondo calcistico sia d'accordo perché in Italia c'è tanto tanto studio del calcio però non possiamo fingere che dietro al calcio italiano sistema calcio italiano non ci siano una quantità di dinosauri di gente che non vuole evolversi ragazzi negli Stati Uniti stanno anni luce avanti a noi per quanto riguarda infrastrutture per quanto riguarda voglia di evolversi per quanto riguarda le giovanili per quanto riguarda qualsiasi cosa tutto questo discorso voglio per parlare di quara schede perché ragazzi ve ne ho parlato io ve ne parlai a marzo io ve ne parlai a marzo di quando nessuno sapeva neanche chi caccio fosse io devo essere onesto io non sono uno che vada a dire io se lo seguo da tot 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 no avevo visto qualche partita e nel momento in cui è stato accostato da Napoli me lo sono andato a studiare e me lo sono studiato guardandomi le partite non guardando gli highlights su youtube perché se tu vuoi studiare un calciatore devi guardarti le partite per vedere la propensione a stare in un certo contesto per vedere magari come dialoga con i compagni per vedere se ha una visione di gioco interessante per vedere se sta a stare se sta a mantenere la posizione che tipo di calciatore è eccetera 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 io ho sempre detto la stessa cosa ragazzi questo è un calciatore totale questo è un calciatore fatto e finito fatto e finito dal punto di vista mentale che può solo crescere che può solo crescere vi ho detto anche cosa vi ho detto vi ho detto ragazzi mi raccomando non facciamo i soliti italiani del cazzo che appena questo incomincia a provare dei dribbling e magari ci riesce a boh questo è troppo questo perché è egoista no ragazzi non si tratta di essere egoista è una delle sue caratteristiche migliori e bisogna lasciarlo fare tra l'altro tra le altre cose è uno è uno che eh sì va bene otto otto dribbling sbagliati su otto hanno fatto uscire questa statistica che tra l'altro non è neanche del tutto corretta perché mi ricordo almeno tre dribbling riusciti contro il Verona però uno che di dribbling solitamente ne completa è uno che il duomo lo salta quasi sistematicamente anche grazie al fatto che destra e sinistra non fa differenza tutto questo per dire ragazzi che non conta non conta solo l'avversario non potete non potete basarvi solo sull'avversario è come quando arriva un calciatore da una squadra di livello più basso e vi va boh ma chi l'è venuto là perché non perché c'è proprio la voglia la non voglia di andare ad analizzare di andare più a fondo cioè Cavani veniva dal Palermo Allan veniva dall'Udinese posso andare avanti all'infinito ragazzi tutti questi calciatori Coulibaly veniva dal Genk o Gent non mi ricordo neanche stiamo parlando di una maniera di analizzare il calcio che magari un tempo poteva pure funzionare ma è ormai preistorica e non è più così non è più così nella vita non è più così nel calcio non funziona così e Quarasquale ragazzi è uno che ne ha e ne ha da vendere e lo farà vedere ragazzi lo farà vedere poi magari potrà anche fare delle brutte prestazioni potrà fare potrà fare male questo non significa che poi sia sia un calciatore scarso il Napoli ha fatto un lavoro su questo calciatore secondo me di altissimo livello il Napoli per quanto riguarda il posto Insigne ha lavorato veramente bene e da adesso il Napoli ha un'ala sinistra effettivamente perché con Insigne ha sempre avuto un po' una seconda punta perché Insigne è più una seconda punta che un trequartista questo è un moscerino è uno che ti entra solo dentro al campo che ti rimane in quella zona lì non uno che ti va a invadere l'area di rigore che si inserisce è uno che ti crea gioco in quantità gigantesche però ragazzi Quarasquale è uno che ci farà veramente divertire forte 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 e contro il Verona non ha fatto vedere assolutamente niente credetemi non ha fatto vedere assolutamente niente può fare veramente tanto 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 di più può solo migliorare io veramente per lui impazzisco per lui per lui veramente impazzisco ragazzi ripeto voglio proprio marcare il mio territorio a tutti gli effetti se lo l'ho fatto già a marzo purtroppo purtroppo quel video non c'è più perché il canale non c'è più lo sto facendo da marzo a mo però ragazzi Quarasquale è il pupillo è il pupillo a tutti gli effetti è il pupillo a tutti gli effetti e niente ragazzi mi raccomando detto ciò mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete tra lì giù troverete anche G7 shorts il mio canale pubblico teleclipposenti iconici momenti divertenti canali top preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre con tutta la vita forzana grazie 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 a tutti.